Guarda che prima si stromba. Vai, vai, vai! Non posso fare perché non c'è a fondo. Sì, dai, vai, dai. Hai finito. Dai, vai, vai, vai. Hai che si tratta. Hai preso, hai preso la scena. YouTube. Domani mattina. Signori, YouTube replica di nuovo. Un'intervista a caldo. È dura. C'è poca luce però. Il peso della famiglia. Prendi il peso di Pio Sinici. Oddio, oddio. Come la vedo ma... No, no, ma aspetta, aspetta, vai. Ce la fa, ce la fa. Non ce la fa, non ce la fa, dai. Tu salta come se volessi scavalcare un cancello, vai. E il movimento di testa c'era ancora, eh? No, 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 no Grazie.